Salve a tutti ragazzi, sono Zwillix ed in questo nuovo video vi darò qualche consiglio su come fare soldi prima dell'uscita del DLC Import-Export e la data molto probabile dell'uscita di questa nuova espansione è martedì 13 dicembre inoltre vi darò anche qualche consiglio su cosa comprare e cosa evitare di comprare sempre prima del nuovo aggiornamento prima di cominciare ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su inoltre di condividere questo video con i vostri amici prima che esca questa espansione perché per chi non lo sapesse dall'8 dicembre fino al 12 dicembre ci sono un sacco di novità nel mondo di gita online tra cui un sacco di sconti e doppi soldi come anche doppi RP in quattro diverse modalità competizione riguardo gli sconti a mio parere sono tutti inutili eccetto per gli uffici e quello che vi consiglio di fare è quello di prendere assolutamente l'ufficio più economico di Los Santos prima che lo sconto non ci sarà perché per fare le missioni CEO dei veicoli che usciranno martedì vi servirà obbligatoriamente un ufficio l'ufficio più economico per il momento costa 500.000 dollari mentre martedì sempre lo stesso ufficio più economico tornerà a costare un milione di dollari perciò approfittate di questo sconto finché siete in tempo e non avete ancora un ufficio su gita online e vi consiglio di acquistare questo ufficio nel caso abbiate bisogno di denaro pure se avete un altro ufficio CEO più costoso perché in questa maniera vendendo il vostro ufficio attuale farete più soldi se ad esempio avevate l'ufficio più costoso che ha un valore di 4 milioni di dollari prendendo quello più economico da 500.000 dollari farete veramente un grosso profitto e vi posso assicurare che qualsiasi ufficio comprate in gioco questi sono tutti uguali tra di loro e non cambierà niente oltre a questo vi sconsiglio vivamente di aggiungere l'armadietto delle armi e la cassaforte se andrete ad acquistare questo ufficio più economico del gioco perché sono praticamente oggetti di estetica ed entrambi non hanno una particolare utilità mentre state giocando a gita online la stessa cosa vi consiglio di farla anche con la clubhouse perché anche qui non cambia niente eccetto la loro locazione e magari farete anche qualche soldo in più scambiando le clubhouse tra la più costosa e la più economica nel caso possedete una clubhouse al momento altrimenti se non avete una clubhouse lasciate assolutamente perdere e concentratevi solo nell'acquistare l'ufficio CEO più economico del gioco chiaramente se andrete a scambiare la vostra clubhouse più costosa con la clubhouse più economica anche qui lasciate stare cose come l'officina, l'armadietto e roba del genere un po' come vedete nel video insomma quindi ricapitolando in qualsiasi caso abbiate un ufficio più costoso di questo o non avete proprio uffici cercate di acquistare o scambiare l'ufficio che avete con questo che state vedendo nel video prima del 13 dicembre senza aggiungere cassaforte, armadietti o alloggi per quanto riguarda il resto degli oggetti scontati che ci sono attualmente in gioco come vedete nel video insomma a mio parere sono inutili perciò vi consiglio di lasciar perdere la rockstar sta solamente cercando di farvi spillare soldi passiamo ora al succo del video ovvero i metodi su come fare soldi attualmente ci sono 4 modalità competizione con doppio guadagno di dollari e rp e sono scea mortale, estrazione, entourage e infine velocità esplosiva quale di questi vi consiglio di fare? secondo me la migliore modalità di tutte per fare soldi se siete soli e non avete compagnia su GTA è velocità esplosiva però nello spiegarvi il trucchetto di questa modalità ci arriverò più tardi con il video un'altra modalità che vi consiglio di fare se siete da soli è quella di fare scia mortale magari le prime partite vi andranno male ma una volta imparato il meccanismo della modalità vi assicuro che potrete fare un mucchio di soldi e io personalmente con soli due round di vincita ho fatto ben 70.000 dollari contando anche che alcuni giocatori sono nel frattempo usciti altrimenti avrei fatto più soldi se invece avete degli amici con cui giocare e utilizzare il microfono e allo stesso tempo siete bravi a sparare su GTA Online vi consiglio di fare entourage la modalità dove devi proteggere la persona che deve raggiungere il punto di estrazione o al contrario uccidere appunto quella persona che sarà il vostro obiettivo io con tre round in questa modalità ho fatto ben 50.000 dollari per un tempo di circa 16 minuti di gioco in una partita gli stessi soldi li ho fatti più o meno con la modalità competizione estrazione che diciamo lo scopo della modalità è molto simile a quella di entourage anche se personalmente preferisco entourage in estrazione a mio parere vince chi è fortunato o comunque più organizzato con la sua squadra e queste sono le due modalità competizione che hanno doppio guadagno di soldi e RP che vi consiglio di giocare e sfruttare solamente se siete in compagnia infine abbiamo la modalità velocità esplosiva e voglio insegnarvi un trucchetto per sfruttare bene questa modalità questa è la modalità in cui una squadra deve far esplodere il furgone mentre l'altra deve appunto proteggere questo furgone che se non raggiunge una certa velocità automaticamente esploderà e vinceranno gli aggressori altrimenti se questa raggiunge la sua locazione senza esplodere chiaramente vincerà l'altra squadra ovvero la squadra dei difensori e dei trafficanti solitamente chi diventa aggressore a inizio gara vince automaticamente la partita perché è una modalità un po' baggata diciamo che vincere un round utilizzando questo furgone è veramente molto difficile e solitamente in questa modalità e tutti i round solitamente li vincono solo chi sta dalla parte degli aggressori e infatti per chi non lo sapesse ad ogni round le squadre si invertono i ruoli essendo che il 90% delle partite in velocità esplosiva funziona in questa maniera praticamente vince solo chi sta nella squadra degli aggressori perciò vi consiglio di fare questo cercate sempre una modalità competizione velocità esplosiva dal menu pausa o statela oppure partecipate da qualsiasi straniero se siete host elevate il bilanciamento squadra e cercate di mettere dai 3 ai 5 round e infine una volta che la sala d'attesa è partita se vedete che il gioco vi ha messo negli aggressori giocate altrimenti se il gioco vi ha messo nella squadra dei trafficanti o dei difensori uscite e ricercate o comunque ricreate nuovamente una nuova modalità velocità esplosiva con le impostazioni che vi ho mostrato e dettato e fate in modo che siate nella squadra aggressori se ad inizio gara non fate parte degli aggressori allora rifate sempre lo stesso procedimento fino a quando non diventerete inizialmente un aggressore e in questa maniera al 90% sarete sicuri di poter vincere la partita perciò concludendo la spiegazione del guadagno con le modalità competizione se siete soli giocate scia mortale oppure velocità esplosiva seguendo il metodo della squadra aggressori che vi ho mostrato qualche secondo fa altrimenti se avete degli amici con cui giocare fate entourage oppure estrazione e se vi piacciono questo tipo di modalità magari potete trovare anche altra gente con cui fare queste modalità competizione tra i commenti e ricordate più round ci sono in queste modalità più soldi farete in un botto sole questi sono i vari screen dei giocatori che hanno fatto un sacco di soldi con una sola partita in queste modalità competizione se invece volete fare altri soldi ed essere preparati a dovere con questo DLC vi consiglio assolutamente di avere un solo appartamento e il resto delle proprietà solo di garage da 10 posti perché se ci pensate bene alla fine gli appartamenti sono pressoché inutili per guadagnare sono solo fatti per cazzeggiare se avete che ne so 4 appartamenti potete scambiare 3 appartamenti dei 4 con dei garage a 10 posti senza appartamento in questa maniera non perderete nessun veicolo e farete qualche gruzzoletto in più come vedete nel video la stessa cosa vale se avete che ne so 2 appartamenti allora di questi 2 appartamenti fate in modo che ne scambiate solo uno con un altro garage da 10 posti senza appartamento e fate attenzione a cosa vi ho detto mi raccomando non vi sto dicendo di comprare garage a 10 posti in più anche perché sarebbe solo uno spreco di soldi e spero che insomma abbiate capito tutti quanti il concetto diciamo che è simile all'idea dello scambio di ufficio che vi ho spiegato prima se proprio avete altro bisogno di denaro allora a questo punto vi consiglio di vendere i veicoli che non usate più da tempo perché a mio parere sarebbe solo inutile tenere nel garage veicoli che magari non utilizzate più infine abbiamo le gare premium che è vero hanno un triplo guadagno di rp però vi sconsiglio assolutamente di farle perché andrete a spendere 20.000 dollari per gareggiare con giocatori che solitamente sono delle bestie in queste gare e hanno dei veicoli della madonna mi raccomando ragazzi lasciate un bel like fate girare questo video il più possibile con i vostri amici prima del 13 dicembre ovvero dell'uscita del dlc import export perché molte cose che vi ho spiegato adesso in questo video non funzioneranno più da martedì 13 dicembre se volete vedere altri metodi su come fare soldi su gta online vi lascerò la playlist dei video nella descrizione e vi consiglio assolutamente di dare un'occhiata al sistema su come fare soldi con le missioni CEO nel caso non abbiate mai comprato in vita vostra un ufficio così potrete anche capire questo particolare sistema delle missioni che sarà più o meno identico con l'uscita del nuovo dlc da ZWX è tutto ci sentiamo al prossimo video